Inizia la settimana ed inizia anche il nuovo mese con una candela rossa per quanto riguarda Bitcoin, ma soprattutto con l'ennesimo fallimento della banca americana, il First Republic Bank, che ovviamente era un po' nell'aria ragazzi. Ho pubblicato anche un tweet con il grafico della First Republic Bank, che era veramente una cosa quasi comica, praticamente una super scam. Terza banca degli Stati Uniti che subisce quello che è stato l'effetto del rialzo dei tassi di interesse e fallisce, in pratica tutto passa in mano a JP Morgan, che prende gli asset della banca. Quindi dopo la Silicon Valley Bank e la Signature Bank, anche First Republic Bank va in crash. Segno appunto ragazzi di quello che sta succedendo anche sui mercati old, non soltanto i mercati delle cripto in questa fase, anzi mercati delle cripto che stanno performando benissimo rispetto a quelle che invece sono queste situazioni legate alle banche. fermo restando ragazzi che si vada a considerare chiaramente le top delle cripto perché alcune altcoin sono ovviamente in trend veramente ridicoli, ma Bitcoin e Ethereum più o meno ragazzi stanno resistendo. Allora, ben ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, introduciamo quello che è l'inizio di questa settimana, facciamo un briefing su una settimana importantissima perché ci sono dei dati il mercoledì 3 maggio che devono essere assolutamente sviscerati e saranno importantissimi. Facciamo il punto su quello che ci sarà questa settimana che invece a differenza delle altre che sono state settimane poco volatili a differenza della questione legata al 26 di aprile per Bitcoin che poi alla fine dei conti è stato un pump and dump improvviso ma poco rilevante in termini di open and close in quanto a apertura e chiusura il mercato sostanzialmente è rimasto immobile e questa è la candera incriminata. Vedete qui sostanzialmente è rimasto fermo, poi ha fatto solo dei pump and then dump, però la settimana in questione invece è una settimana di buona volatilità, di ipervolatilità, forse di, diciamo così, non di iper, di importante volatilità proprio a casa dei dati macroeconomici. Quindi iniziamo un po' dalla questione dati macro, la First Republic Bank che fallisce lo abbiamo già detto e andiamo a vedere appunto tutti quelli che sono i dati di questa settimana. Oggi c'è l'ISM, secondo me non rilevante, tra pochissimi minuti verrà pubblicato, quello che secondo me invece dobbiamo già andare a monitorare è il tasso di infrazione dell'Europa. Nella giornata di domani questo tasso di infrazione ragazzi è previsto addirittura leggermente rimbalzo, quindi un po' superiore, quindi l'Europa ancora stenta ad uscire dalla fase dell'impennata infrazionistica e anche quest'anno 2023 sarà un anno a infrazione molto alta per quanto riguarda il vecchio continente, quindi proprio l'Europa. Vediamo però ragazzi perché se questi dati appunto fossero un po' più bassi magari il mercato potrebbe reagire bene, avete anche, cioè sapete ormai che le reazioni del mercato finanziario alle news legate all'Europa sono molto blande, così come anche quelle del Cino, cioè reagiscono molto in più in base a quelle degli Stati Uniti. Andiamo a vedere invece la giornata di mercoledì che è il vero clou, il fiore all'occhiello di questa settimana, soprattutto per quanto riguarda i dati relativi alle decisioni del FONC che sono previste all'ora 20 insomma standard e il FONC, quindi la Federal Reserve, indicherà quello che è il nuovo tasso di interesse. Anche in questo caso la previsione di un incremento del 0,25 del tasso ultimo o penultimo incremento perché in alcuni casi appunto il mercato sta scontando anche l'ulteriore incremento da parte della Fed fino al 5,50 dei tassi di interesse. Tutta questa giornata sarà un'attesa, continua la decisione del FONC. Andiamo a vedere anche quelli che sono le stime della Next FONC appunto del meeting che prevedono il 90% un incremento dei tassi. Nonostante anche la First Republic Bank che è fallita proprio nella giornata di... cioè è fallita qualche giorno fa ma adesso diciamo è stato ufficializzato il fallimento col passaggio a JP Morgan, nonostante questo non è cambiato nulla da un punto di vista di alzo dei tassi, segno che il mercato si aspetta che la Federal Reserve continui la sua galoppata contro l'inflazione a prescindere da queste cose ormai avendo in pratica garantito un po' le banche, i depositi eccetera in qualche modo. Forse non si aspettano che molti istituti di credito vadano in fallimento e forse anche per questo stanno agendo ancora in questo modo quindi probabilmente sanno che gli effetti collaterali di questi fallimenti sono controllabili al momento o altrimenti sono dei pazzi scatenati. Vabbè questo speriamo non sia così. Nella giornata di giovedì invece abbiamo qualche dato relativo alle decisioni dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea anche questa in attesa alla 0,25 3,75 quindi vedete che differenza ancora quasi due punti percentuali di differenza fra gli Stati Uniti e l'Europa di rialzo dei tassi. Quindi in Europa il tasso di interesse continuerà a salire probabilmente ragazzi anche fino alla fine dell'anno se non anche il primo trimestre del prossimo anno quindi 2024. Poi i dati successivi sono non importantissimi se non il tasso di disoccupazione 3,6 previsto quindi sostanzialmente in linea quindi a meno di forti perturbazioni questo tasso di disoccupazione ragazzi potrebbe essere più alto. Non so se in questa rilevazione sarà più alto perché i dati su un peggioramento del PIL sono appena arrivati quindi stanno appena arrivando il trasferimento al mercato del lavoro arriverà molto più lentamente quindi ci vorrà probabilmente più tempo. Va bene detto questo passiamo invece all'analisi che riguarda Bitcoin perché volevo farvi vedere non i grafici standard che guardiamo sempre ma un aggiornamento su quella che è la questione dei grafici di lungo periodo relativi appunto all'anno al mese e alla settimanale di Bitcoin. Per capire un po' dove siamo messi ragazzi iniziamo dalla candela annuale all'inizio di quest'anno avevamo indicato questa zona come una zona di resistenza per il 2023 questa zona era tarata alla 28.200 dollari 28.200 dollari che come vedete in effetti stanno avendo una forte resistenza. So che è strano per molti di voi che sono trader magari guardare una candela a così ampio raggio in realtà ci dà delle informazioni molto importanti perché ragazzi rappresenta un po' il titolo di un film cioè rappresenta un po' i nostri margini il nostro ring operativo per l'intero anno ed è molto importante. Questa zona l'avevamo già indicata come zona di possibile resistenza e in effetti così il mercato sta facendo perché perché rappresentava il minimo della candela del massimo storico di Bitcoin di gennaio scusate di gennaio dell'anno 2021. E' finita poi appunto nel 2022 quindi questa iniziale 2022 ha creato poi il massimo nel 2022 e insomma rappresentava anche metà della candela invece del bear market. Detto questo cosa cambia da qui in poi ragazzi allora questo livello è molto importante un break confermato su una chiusura almeno settimanale in questo caso ragazzi perché parliamo di un time frame molto ampio e poi anche mensile potrebbe spingere in effetti Bitcoin non solo a fare degli app relativi ma molto più in alto ragazzi perché un break di questo livello sposta tutto al successivo livello di resistenza che in questo caso è un livello di resistenza mediano che è pari a 35.000 dollari e successivamente oltre questo si va ai massimi storici in close di Bitcoin cioè quelli non in shadow ragazzi ma ai massimi in close che sono rappresentati da 46.200 dollari i prezzi di Bitstamp uso questo grafico perché ha più storico ragazzi va bene quindi un break di questi livelli confermato in close settimanale l'app lo avrebbe spingerebbe i mercati a tentare questa nuova appunto di arrivo. molti di voi dicono Mauro riusciamo ad arrivare a 45.000 ora io ragazzi non mi sbilancio mai con previsioni del genere perché ragiono più a livello di analisi ciclica e quindi a livello di tempo a livello di tempo un po' il tempo è agli sgoccioli questo ve l'ho già spiegato dall'inizio del mese in pratica un po' io sono fiducioso sul fatto che Bitcoin possa andare ad aggiornare i massimi fatti nel 2023 ma un aggiornamento di un discorso una ulteriore fase rialzista così pronunciata non so ragazzi mi sembra un po' un eccesso sarebbe praticamente un più 60% degli attuali livelli quindi al momento non è nelle corde secondo me di quello che è la previsione per l'anno 2023 però tutto può avvenire è chiaro che se Bitcoin dovesse fare una cosa del genere la farà nel secondo semestrale di questo ciclo annuale ciclo annuale previsto in chiusura verso febbraio gennaio cioè a fine anno 2023 fino a febbraio quindi quella zona lì da dicembre a febbraio perciò il potere di fare una cosa del genere lo avrebbe dopo l'estate o durante l'estate d'agosto in poi sinceramente mi sembra un po' una cosa eccessiva senza grandi dati senza particolari news rilevanti che vadano a sconvolgere lo status quo attuale dei mercati delle cripto mi sembra un po' difficile che Bitcoin possa andare a quei livelli certo io sarò trend follower ovviamente come sempre faccio quindi se Bitcoin dovesse cedere anche queste cose io seguirò il trend ragazzi magari non entrerò subito entrerò un po' più in là su un trend di quel tipo perdendomi in qualche punto percentuale ma comunque seguirò in ogni caso il trend a prescindere da queste analisi però oggettivamente secondo logica secondo probabilità il touch già di un livello di 35.000 è un eccesso per l'anno 2023 secondo me Bitcoin può ancora aggiornare i massimi e se lo farà lo può fare a breve tempo cioè in breve tempo altrimenti i giochi sono fatti poi si passa a una nuova fase di cui parleremo sostanzialmente da maggio in poi ragazzi una nuova fase di gestione di questo anno secondo me veramente molto importante passiamo alla questione della candela mensile oggi proprio in Academy ho pubblicato i nuovi livelli delle nostre strategie per il mese di maggio e anche per il settimanale a proposito di questo ragazzi molti commenti non molti per fortuna pochissimi commenti però alcuni commenti fuori luogo totalmente sul fatto che io possa mentire nelle mie operazioni vi ripeto che tutto quello che dico in questi video pubblicato in Academy in largo anticipo e molti seguono quei segnali perciò essendo centinaia di trader iscritti lì io dico quello che faccio in Academy ragazzi non faccio mai il contrario se non che molti di voi mostrarci risultato sempre con questa mentalità arretrata e mediocre da italiano medio ragazzi allora magari ve li mostro anche perché ci sono ovviamente gli statement di Big Cat in questo caso io uso Big Cat per fare queste operazioni l'ultima volta che ho fatto l'operazione sulla che vi ho parlato dell'operazione in gain sulla candela questa del pump and dump non è mai stato uno short sono stati due long ragazzi uno che veniva da giorni precedenti che era quello giusto cioè quello che stavamo gestendo in Academy l'altro l'ho fatto io personalmente quando il mercato è crashato a 27.200 perché ho detto vabbè se mi regalano una pasto gratis me lo prendo tutto qui ho messo gli stop ho fatto un trade l'ho chiuso dopo mezz'ora e praticamente a 28.000 è qualcosa quindi un trade molto semplice da trader vero quello tra l'altro ero anche a cena giusto per intenderci a una braseria a Tenerife ragazzi ok però vi mostro anche questa cosa però non ragionate sempre andando a vedere il male nelle cose perché ricordatevi sempre che non si impara nulla in questo modo va bene quindi non vi dico di fidarvi ciecamente ovviamente non è così però se noi in Academy ragazzi abbiamo dei segnali e li pubblico costantemente perché scrivete questi pensieri mediochi queste mentalità sempre all'italiana scusatemi in termini di bassissimo livello perché sono fuori luogo totalmente non vi aiutano in nessun modo a comprendere il concetto non è la singola operazione a essere in gain che fa un trader bravo ragazzi è seguire un piano che fa un trader bravo seguire una logica avere delle chiavi di lettura del mercato avere diverse situazioni e soprattutto sapere cosa fare quando le cose vanno male non vanno secondo i piani questa è la differenza fra un trader non professionista e una amatoriale che fa scommesse sul mercato va bene il resto sono chiacchiere anche se io vi mostrassi ho 12.000 operazioni ragazzi fatte in game non significa che io sono il trader migliore del mondo perché per esserlo devo rispettare i piani e rispettare le mie strategie scusate questa questione però ogni tanto mi innervosisco mi infastidisco perché non voglio nella mia community che ci siano pensieri di questo tipo soprattutto perché siamo insieme da 5 anni ragazzi non da uno è veramente ridicolo pensare in questo modo va bene allora detto questo vi faccio vedere quelli che sono i segnali della candela del mese allora la candela del mese è questa qui ed è i livelli sono molto importanti quelli legati al mese precedente ragazzi perché questa è una candela da bassissima volatilità di bitcoin perciò un breakout durante il mese di maggio di uno di questi due livelli di massimo e di minimo teoricamente indicherebbe o una continuazione di questo trend e quindi la possibilità di fare questi benedetti nuovi massimi che al momento io mi aspetto ancora ragazzi seppur con fortissima dubbio per i motivi che vi sto dicendo già da un po' però sono ancora verso quella direzione quindi le mie operazioni sono volte a tentare nuovi massimi per bitcoin quindi vado ancora long poi short non andrò su bitcoin ma magari non faccio operazioni ecco questo è quello che vi dico mentre short si può andare su molte critto ragazzi in quel caso lì se invece noi scendiamo sotto i minimi della candela di aprile che bitstamp ce li porta a 26.980 ma più o meno 26.900 ragazzi la questione si complica e si complica anche alla grande perché qualora una cosa del genere dovesse avvenire nei primissimi giorni di maggio ci può stare anche un recupero in extremis alla fine del mese che quindi non cambierebbe nulla in termini di medio periodo ma se questa cosa avvenisse dopo la metà di maggio allora sarebbe molto controproducente e ipotizzerebbe una candela di stop di queste fasi rialziste e badate bene ragazzi che dal minimo di novembre in sostanza bitcoin ha fatto solo candele verdi mensili una rossa di poco conto cioè che stia all'interno di questi livelli può starci perché è una candela di riposo ragazzi ma non deve breccare i livelli né di massimo né di minimo della candela precedente quindi se invece qui avessimo un mercato che va sotto questo livello di 26.900 crea per la prima volta una candela di stop a questo trend inverte il trend di breve periodo al 100% e cambiano tutti i connotati perché dal punto di vista temporale come vi dicevo siamo stanchi e perciò un'inversione in questo contesto cambia anche a livello temporale e potremmo aver dato per l'anno 2023 ciò significa che questo massimo che è stato fatto intorno ai 31.000 dollari potrebbe bastare per l'intero anno poi perciò è una situazione che è meglio non avvenga quindi se dobbiamo spingere secondo me Bitcoin deve farlo proprio a brevissimo periodo andiamo a guardare dopo la candela mensile quella settimanale chiudiamo il video con questa rassegna di lungo periodo medio lungo periodo diciamo così sempre con occhi da trader guardate come sulla candela invece dei cicli di natura del time frame settimanale quindi su cicli più lunghi non è cambiato nulla perché siamo ancora saldamente al di sopra di questo livello di media mobile che è la media mobile a 12 settimane cioè la media mobile del ciclo semestrale ragazzi la annuale è qui sostanzialmente come vi avevo indicato quando avviene un breakout della media in questione Bitcoin continua i trend e anche precedentemente ha fatto una cosa del genere qui c'è stato il fake per la questione pandemia ragazzi però all'inizio di un ciclo annuale di solito li continua stessa cosa anche qui vedete poi ha fatto il massimo ma questo è un nuovo ciclo annuale che poi è diventato ribassista qui abbiamo un nuovo ciclo annuale che ancora può esprimersi vedete in una fase di massimo sia in questo punto qui quindi a brevissimo appunto come vi dicevo e poi altrimenti tutto rimandato dopo la close den semestrale e quindi in quest'altra fascia temporale che però io qui mi metto un dubbio mi metto un gran punto interrogativo perché prima bisognerebbe vedere dove va a chiudere in zona estiva questa fase qui Bitcoin ragazzi se la fa in barra di congestione allora ok se la fa con un minimo importante la possibilità magari di fare nuovi massimi diventa difficile vi faccio capire la questione cioè se la fa con un minimino in barra ok se fa una cosa del genere come aveva fatto nel 2019 la questione diventa un po' più difficile poi di andare a fare i massimi qui infatti fece poi la chiusura con una lingua di buyer del ciclo annuale lungo a causa del covid ma in ogni caso insomma era complicato vedete nella seconda parte quindi qui fece proprio una struttura molto pesante di ribasso quindi questi sono i giochi e questa settimana io personalmente ho impostato l'ennesima operazione long con la mia academy ancora una volta nel tentativo di diciamo nella possibilità che Bitcoin vada a breccare questi massimi che ancora ritengo appunto possibile nel breve è un'operazione però più complessa perché il tempo sta scadendo e quindi da un punto di vista di trading non mi aspetto facilità da questa operazione però sono ancora dell'idea che la probabilità sia ancora favorevole a quel tipo di logica a quel tipo di approccio fermo restando che se brecchiamo questi minimi come vi dicevo i minimi del mese di del mese di aprile la questione cambierà totalmente anche io cambierò ovviamente scenari da questo punto di vista detto questo quindi una eventuale fase di inversione di breve periodo andrò long abbiamo dei segnali abbiamo il nostro bot nel tentativo di andare a fare un touch dei 31.000 dollari questa è l'operazione settimanale poi mi dite che non ve l'ho detto l'altro giorno quel ragazzo mi fa Mauro ma ce le puoi dire a livelli ma io ve li dico ragazzi poi però seguire il trend su youtube non è possibile perché intanto non so se voi avete l'esperienza per capire quello che dico e secondariamente se le cose vanno male io come faccio ad avvertirvi poi in tempo reale cioè posso fare un video magari alle 3 del mattino capite bene qual è il concetto non si può fare un'operazione di trading su youtube ragazzi a parte che credo sia anche non legale infatti non seguite non sono così finanziati e non copiate i miei trading va bene detto questo fatemi sapere invece come state impostando voi queste ipotesi secondo voi bitcoin può avere ancora una chance in questo mese di fare nuovi massimi oppure abbiamo dato e se ne parla dopo l'estate oppure le jason fe e addirittura ci vuole il prossimo ciclo annuale cosa ne pensate per oggi è tutto buon primo maggio in ogni caso a chi di voi sta festeggiando ciao ciao